Ebbene sì ragazzi, questo Ultimate Goan Evo è davvero un ottimo personaggio a mio avviso, ma come avete letto dal titolo ha dei problemi che vi esporrò durante il video. Quindi sigla e partiamo subito con alcuni match. E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Come vi ho detto dall'intro andremo a vedere qualche cosa riguardante questo Goan Evo Ultimate. Andremo a vedere tre match in particolare, non mi sono concentrato molto su chissà che cosa, sui match estremamente belli. Ma per farvi vedere sia i danni che riesce a fare, sia i danni che però oltretutto va a subire durante gli sconti. Prima di fare questo vi voglio mostrare, lo facciamo subito partire dal match, diciamo dall'incontro, come l'avversario vede l'attacco da parte di Goan. Goan va con la special move a colpire in questo caso Goku. Guardate che danni che fa contro il verde, switcha e ci troviamo con 20 secondi per tornare Goku e il seal delle carte rosse. Anche quella in attesa per 3 secondi. Quindi vediamo questa cosa qua. Lo andiamo anche poi a rivedere in un secondo caso, in questo caso contro C21. Di nuovo carta verde per massimizzare i danni fatti. Carta blu. La andiamo a colpire, danni enormi. Poi C21 switcherà nuovamente con Goku Super Saiyan 4 che appunto farà tornare C21 dopo. In questo caso ragazzi mi sono portato Goan in un Son Family. In un Son Family con appunto, come vedete da sotto, diciamo sotto la mia faccia, il team preparato in questo modo. Ed ecco, la prima cosa che andiamo a notare di questo Goan è che, prima di tutto, non ci sono molti equipment per lui. Gli equipment che ci sono devono essere portati ad esse obbligatoriamente e quei pochi che vengono portati ad esse non sono comunque molto molto forti per lui. Uno in particolare, che oltretutto deve essere awakenato, è un equipment che basa le proprie statistiche sul team hybrid. Quindi già ne ha pochi, quell'unico buono va portato ad esse ed è awaken ed è oltretutto si basa sul team hybrid. Quindi noi lo andiamo a giocare in questo caso Goan in un team Son Family perché ha le spalle un po' più coperte. Perché poi andiamo a vedere anche un match con il team hybrid, ma c'è qualche problemino con il team hybrid, soprattutto per quanto riguarda il team da costruirgli dietro. Quindi in questo caso io ho questo team un po' Son Family, un po' Goku centrico, insomma cose del genere. E lo andiamo a vedere in questo caso. Adesso Rising Rush da parte del Loe avversario, un Loe molto fuori meta, fatto con Podza che, insomma, non si gioca ormai più. Kulerevo molto buono e Golden Freezer verde che, insomma, ormai lascia il tempo che trova. Molto forte contro i Goku, primi 60 secondi, ma lascia il tempo che trova. Come vedete già una combo bene assestata da parte anche del nuovo Goku, fa il devasto assoluto. Special Move anche su Cooler però non trasformato, verde su viola, fa davvero, davvero ottimi danni. Questo Goku si, diciamo, non smentisce. Al momento quando gioca questo Goku non smentisce mai. Blast di Gohan, come vedete danni davvero, davvero enormi. Special Move che va praticamente a shottare questo Cooler. Davvero, davvero ottimo. Gohan, quando praticamente viene setupato nel modo giusto, diventa una macchina da guerra. Fa davvero tanti danni. Non regge, secondo me, il meta appieno. Cioè, da solo non ce la fa. Ha bisogno veramente di un team alle spalle e ha bisogno di almeno uno o due equipment ben assestati. Perché veramente si sente la mancanza di un supporto degli equipment. Per il resto, comunque, il personaggio fa il suo, fa dei danni, vi stupirà, ma non so quanto convenga eventualmente pullare nella sua batch. Sinceramente non conviene più di tanto. Qua faccio la scimmietta che gli ballo intorno, ma l'avversario doveva aver probabilmente smesso di giocare o aver avuto un intoppo. Comunque, in ogni caso, il match è finito, basta un tap. Vedete i danni che prende? Blu su blu da pozza. In realtà prende anche dei dannettini non bassissimi anche sulle strike da parte di Freezer, però insomma. Con il tappetino lo andiamo a completare e andiamo a vedere il secondo match. Secondo match in questo caso contro un team Fusion, sempre con il nostro Sonfamini. Ci portiamo sempre Goku bambino, ci portiamo Goku verde che ormai è imprescindibile in tutti i team in cui si gioca, quando di fronte ci troviamo Blu Gito, ma il problema è un Fusion con Kefla, perché Kefla e Blu Gito insieme non possono non giocare e quindi bisogna portarsi eventualmente anche un Viola. Il problema è che il Viola in questo team, o è Goku Super Saiyan 4, o purtroppo è Goten. Ma portarsi Goten al momento, ragazzi, è veramente, è veramente complesso. Ve lo posso assicurare, è già difficile giocarselo in Hybrid, giocarselo qui è veramente difficile. Ho aspettato qui che, diciamo, feicare il, di baitare, feicare l'avversario per il cover, ma non ci siamo riusciti. Special move di Zamasu su Gohan, Gohan si trasforma. Abbiamo doppia carta verde. Zamasu carta verde da parte sua devastante. Ci studiamo un attimino, io spero di colpirlo con la carta verde, ero convinto che mi potesse attaccare. E comunque lo andiamo a prendere. Carta rossa, lui va in cover con Kefla. Noi abbiamo Goku libero, Rising Rush e vediamo di tirarlo giù. In realtà Rising Rush lo avrei potuto fare anche con Gohan. La strike fatta su Kefla non era per niente male, lui aveva un boost ai danni post carta verde appunto. Quindi avrei potuto farlo con lui pure per vedere se riuscisse a tirare, se avesse tirato giù Kefla appunto con Rising Rush. Ma ho preferito andare tranquillo con Goku e continuare a proseguire poi con il match. Con il match stesso. 4.400.000 di danno da parte di Goku. Vanishing che non è avvenuto ragazzi, ci sono momenti in cui non riesco proprio a farlo andare. Ma va bene. Tralasciando questi aspetti ci prendiamo un po' di danni da parte di Blugito, gli facciamo attivare la main ability con l'ultimate. E andiamo poi con Goku verde perché l'ultimate non ci shotterà sicuramente ma se va con Zamasu si è perso un Rising Rush vivente. Quindi si perde il Rising Rush vivente con Blugito ma ne fa uno con Zamasu. Sul verde bastavano probabilmente due blast e una strike per tirarmi giù quel Goku. Gli riusciamo però a farare il Rising Rush, molto molto buona come cosa. Andiamo di strike, Blugito torna tra un pochino ancora. Andiamo con Gohan e vediamo un po' i danni che riesce a fare. I danni non sono per niente bassi, special move. Non ero riuscito ad andare con il key charge. Danni abbastanza buoni. Abbastanza buoni quando andrà a switchare Zamasu nei prossimi 20 secondi come abbiamo già visto all'inizio del video. Se nei prossimi 20 secondi andrà a switchare con Blugito, Zamasu tornerà dopo appunto 20 secondi. Carta verde, non riusciamo a prenderlo. Lui giustamente aspetta i miei passetti. Va in combo. Quindi diciamo i 20 secondi gli possono tranquillamente passare in base a quello che fa. Va di ultimate. Devono passare altri 9 secondi affinché non torni poi dopo. I 20 secondi dello switch. Vediamo se è giallo contro viola. Quindi lui ha fatto lo switch e Zamasu tornerà in un tempo completamente lunghissimo ragazzi. Tempo completamente lunghissimo per lui. Mettiamo Goku, carta gialla, carta rossa. Zamasu probabilmente non farà in tempo a tornare neanche in cover change volendo ma probabilmente non sarebbe riuscito a tornare lo stesso. Qui come vi ho detto prima non sono riuscito ad andare di swipe in avanti per prenderlo. Però con Gohan carta verde, tempismo perfetto, carta gialla e andiamo di special move per tirarlo giù. Tempismo perfetto per il forfè del match. Passiamo al prossimo scontro. Ultimo match ragazzi. In questo match stiamo contro un movie completo in realtà. Perché Bojack era anche molto stellato però evidentemente non lo ha voluto portare per paura di Trunks. In questo caso come vedete abbiamo un hybrid fatto appunto scelto con Goten, Trunks che purtroppo non busta hybrid, prende il bus ma non busta e Gohan, il nostro Gohan Ultimate Evo. Vediamo un po' come si comporta nell'hybrid. Nell'hybrid sicuramente i suoi equipment gli danno più giustizia, gli fanno più giustizia perché è più facile appunto sfruttare quel bus che prende dall'equipment Awakened. E in quel caso ragazzi sono belle percentuali. Può arrivare addirittura sul 20% di Strike Attack e il 20% di Blast Attack. Che male ovviamente male non fa. Avvitiamo Goku verde che praticamente ormai è buono soltanto come danni da Ultimate perché in quel caso con l'Ultimate passati 50 secondi fa veramente veramente male. Ma in questo caso come vedete anche contro un blu non è che sia incredibile. Broly che fa sempre abbastanza paura da trovarsi contro. Special move, lo prendiamo in pieno. Mezza barra di vita, non male. Per niente male con il nuovo Gohan. Lo prendiamo mentre sta facendo lo swipe. Lo prendiamo con la carta verde. Strike, andiamo anche con una Blast. E ragazzi, dannoni. Bei danni, davvero davvero bei danni. Di nuovo andiamo con la carta gialla. Carta rossa sullo Switch. Velocissimo e repentino da parte di Goku. Che ci riesce a parare l'attacco. Andiamo con Goten che ragazzi se prende fa male. Ma se viene preso vi posso assicurare che con tre strike, tre strike di Blu Gito viene veramente se ne va giù questo Goten. Ma anche di Kefla. Ho combattuto anche, ho fatto altri match per cercare di registrare lì. Ma anche Kefla lo tira giù troppo facilmente. Quindi il problema dell'hybrid. Poi sono andato qua di Rising Rush per giocarlo tranquillamente. Ma ho anche rischiato in realtà. Il problema dell'hybrid a mio avviso è che al momento te lo giochi con Trunks Rage. Trunks rosso, Zenkai volendo. Oppure con il Trunks Future, quello dell'Ultra Space Time con Cell. Bello stellato. C'è possibilità adesso di vederlo magari stellato pullando in questa batch. C'è qualche problemino secondo me nell'hybrid. E' messo già meglio il Vegeta Family. Forse, secondo me. Quindi l'hybrid qualche problemino al momento ce l'ha. Questo Gohan potrebbe risollevare un po' il team. Ma c'è, ripeto, bisogno di vedere un bel quantitativo di equipment per lui fatti bene. Qua vado di carta verde. Non ci sono riuscito esattamente come ho fatto nel match precedente contro il Fusion. Contro Zamasu in particolare. Ci prendiamo i danni di Janemba. Riusciamo a tankicchiare decentemente. Andiamo qui con il Vanishing. Lo prendiamo. Andiamo in combo. E ragazzi qua è veramente devastante. Post carta verde. Devastante. Assolutamente contro un qualsiasi rosso. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Anche l'intro per quanto riguarda il come funziona special move e switch da parte dell'avversario. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Gohan. E arriverà il prima possibile anche lo showcase di Bootengs. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!